l'acqua e il colore deve rimanere chiaro, pallido, tipo vedi la grossa del pane sopra e si chiara così più è chiaro è meglio e più la sovra è dura si sa parlare di vizio è di esposizione si, si si, è di esposizione si, è di esposizione mezz'ora al banco deve seguire poi, è chiaro grazie sembra si perbono i preparativi ecco Marco Faggiano il presidente tutto pronto? ci stiamo quasi non ti avvicinare troppo mi fai paura sono arrivati tutti? quasi tutti dai siamo un buon numero siamo 30-40 persone quindi carichi? tutti carichi? carichissimi ci siamo quasi a puntino gli ultimi accorgimenti e siamo pronti e da domani la grande festa e da domani la grande festa da domani siamo attivi attivi e pronti buon lavoro grazie questo è la nostra bella associazione Alex lo scotch è quello che sto cercando ok se non prende i ragazzi i ragazzi sono su questo pronto? ciao tutto pronto Alex? si quasi stiamo ancora cercando di sistemare buon lavoro grazie e si calurà un paname questo momento è così sì